ciao a tutti ragazzi sono in un video a caso proviamo come va faccio anche il raffreddore fa un culo perdono throwback questa mappa è carina non è male vediamo un po cosa prendere per luce va bene ok sbacchiamo uguli speriamo 1 2 3 sasso carta forbice si ho azzeccato cazzo sasso carta forbice ancora di su è troppo bello questa roba farlo first blood so che arriverai dalla so che no da dietro scappa 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 cazzo cazzo senti i passi sento sento eccolo lì bastardo volevi camperarti lì ragazzi io gioco sempre con calma non rompete i coglioni se io cammino poco c'è non campero vado in giro però non sono uno che salta volava preso se no mi fottono alla grande ok muori 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 ma cazzo non muoiono mai sti cazzo di cretini dove cazzo è eccolo eh finalmente cazzo un po mongolo quello lì ma pace eccolo un altro peso qualcuno mi ha visto scappa 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 ecco morto arriverà qualcuno prof boh cazzo ne so nessuno eccolo lì eccolo lì eccolo lì eccolo infarto la madonna e cagotto sono a 15 to nuclear attenzione Tanto verrò stuprato tra dieci secondi Ci scommetto le palle Mai Nessuno Missione oro fatta Aiuto aiuto mori 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 Minchia sti cagotti Non muoiono mai sti cretini Mille colpi per ammazzarli A parte che lo ammira un po' nel cazzo Preso Quello che campera lì nell'angolo Preso Col cazzo che vado a prendere quello lì Bravo mio compagno Finito l'UAB Merda Mi mancano 100 punti Che cazzo faccio no? Preso Figa mi serve l'UAB Non vedo niente Mi sto cagando addosso Sono in serie Mi sto cagando letteralmente Addosso Nessuno Nessuno Questo cretino Che mi salta al fianco Cazzo mi fa pensare Che c'è qualcuno Mori 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 Ok Sì 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 Uovi uovi Cazzo cazzo Ora inizia il momento cagotto Inizio già a tremare Come Uno che ha il Parkinson Figa c'ho le mani Che c'è il terremoto Ok Ok Sono là Sono là Figa c'ho ragazzi C'ho il Parkinson Alle mani Ogni volta che vado in serie Ne ho fatta solo una Di culo Però ogni volta È come se Mi sudano le mani E premo come una foglia Quando sono in serie Ma no no Ok ok Uff Uff Prendiamo fiato 90 punti a lua Non c'è però E vai Ce l'abbiamo Bene dovrebbero mancare 5 con 6 7 e 8 Non lo so Poche Mi sto cagando Posso Vabbè Inizia il momento camper Scusate ragazzi Ma Devo Ho la necessità Perché io so già Che vengo in culato Facile Se corro come un cretino 5 5 5 Bravo Ok 4 Minchia che ansia Vedo Vedo Mi ammazza Mi ammazza Mi ammazza No Grazie Grazie a Dio 2 2 2 Figa adesso Sto fermo Come una cazzo di stato Giuro che non mi muovo E non mi rompete il cazzo Perché Voglio vedere Chi è a 2 E corre ancora Come Volte In mezzo a tutti Fanculo Sto qua fermo Fermo Supposta nel culo a lui Bella Eccoli Eccoli Basta Sto qui Ragazzi Se mi insultate Mi fega un cazzo Ma sono le ultime Sto qua fermo Vai 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 Sì Sì Cazzo sì E siamo a 2 Ragazzi 2 Lo so che C'è gente Che l'avrà fatta I miliardi Ma questa è La seconda Per me E vai cazzo Ragazzi Questo episodio Finisce qua Veramente Ho tremato Come una foglia Ma per fortuna Qualche volta Il culo mi va Non mi ha cagato nessuno Perché mi hanno sparato In due Però sono scassissimi Ma bene così Esultiamo 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 Sì Cazzo Ciao a tutti ragazzi E al prossimo episodio E al prossimo episodio